Franco Turini, classe 1960, dal 2004, ospite della casa famiglia marciana gestita da Paim, racconta se stesso tramite l'arte. Ci possono essere artisti che hanno il talento, ma a volte non basta, serve la creatività. Il filo conduttore di tutti i lavori di Franco è la grande fantasia, che è anche libertà e volo per allontanarsi dalla durezza aspra della vita. Così il professore e promotore culturale Aldo Baiocchi. A che cosa si ispirano i tuoi quadri? A tutto, ai viaggi, a tante belle cose, alle campagne. Voglio sempre continuare, perché è una cosa che mi piace, è una passione e mi piace da morire. L'artista, dal febbraio scorso, espone i suoi quadri alle terme di Bagni di Lucca, il ricavato della vendita dei quadri sarà devoluto alle popolazioni colpite dal recente terremoto del centro Italia. Voglio che questa gente si aiuti, perché bisogna aiutarli, hanno bisogno, che devono avere le case, costruire le case e stare sempre bene. Questo murales che vediamo alle tue spalle lo hanno fatto i ragazzi dell'Istituto d'Arte, seguendo i tuoi disegni. Sì, però si è colorato tutti quanti, anche noi della casa famiglia. La mostra proseguirà fino al prossimo 25 marzo.